Interessanti sono questi dati sull'età mediana alla diagnosi che è in lieve diminuzione. Nell'ultima settimana sono 42 anni, quindi nell'ultima settimana, rispetto ai 43 anni della settimana precedente. Anche l'età mediana del primo ricovero è in diminuzione, sono 66 anni rispetto, c'è un errore di battuta, 67 nella settimana precedente. Gli andamenti dell'incidenza per fasce di età mostrano una decrescita nelle varie fasce di età e vedete che la decrescita ovviamente ha le stesse caratteristiche un po' lenta e la zona ovviamente grigia mostra il dato che è ancora in fase di stabilizzazione. Questo è un dato positivo che è un indicatore anche indiretto dell'efficacia delle vaccinazioni, vedete che le tre curve sono tre fasce di età, la curva verde sono gli over 80, la curva rossa è 70-79, la curva azzurra è 60-69 e vedete come mentre prima dell'inizio della fase di vaccinazione, quindi nell'area prima di A, la curva verde, gli over 80, aveva delle incidenze molto elevate, ovviamente adesso con l'inizio della campagna vaccinale vedete che sono invertite le tendenze, quindi c'è una decrescita, una decrescita significativa e questo caratterizza soprattutto le fasce di età sopra l'80 anni.